Grazie per essere qui, noi teniamo particolarmente al CRAM per convinzione dell'utilità del lavoro che voi svolgete, dei risultati che otterrete anche oggi e anche per storie personali, non è utile stare a ricordare chi conosce la mia personale storia sa perfettamente quanto sia legato alle comunità dei nostri connazionali all'estero. Sono certo che i miei colleghi offriranno una massima disponibilità, accoglienza, rispettosa dedizione ai lavori di questa donanza e sono certo che resteranno fatti concreti che potremo poi sviluppare nel corso dei giorni a seguire. Quindi buon lavoro, discutete animatamente perché a noi è un fatto che ci fa piacere quando c'è grande tensione per raggiungere obiettivi. Quindi buon lavoro.